buongiorno a tutti ragazzi bentornati sulla infinity allora oggi dobbiamo fare l'armatura quella un po più figa della draconic diciamo la versione definitiva della draconic che è questa qua arancione come si fa questa qua arancione si fa con questo che si fanno però con quattro di questi quindi servono quattro stelle del witter per ogni per ogni cosa siccome noi abbiamo fatto produrre un po di questi abbiamo fatti in tutto quel tempo che abbiamo lasciati andare si sono prodotti ci prendiamo un po di stelle ok 64 bastano ok e dobbiamo mettere a produrre questa roba qua quindi dobbiamo fare oltre a quelli dobbiamo fare anche questi qua che sono quelli più avanzati quindi così ne prendiamo uno questa la buttiamo via ne prendiamo uno non lo possiamo prendere non lo possiamo prendere allora semplicemente facciamo così buttiamo dentro la recipe e facciamo dove siamo qua eccola qua next e start ok oltre a quello dobbiamo fare anche questa che ci servono quattro di quelli e una di quelli quindi ci serve sempre una stellina di quelle lì quindi questa qua ok start e questa qua così e bam così e abbiamo fatto anche questa recipe poi dobbiamo produrre l'armatura la weaver ce ne serve una per ogni next start next start next start next start next start e next start e ok quindi penso che possiamo anche no dobbiamo far produrre non quello dobbiamo far produrre questo qua draconic draconic questi qua dobbiamo produrre uno due tre quattro penso in realtà bastava forse farne produrre uno però fa niente facciamo così no manca sempre perché non lo fa ma sta craftando quelle si va bene babini babini ma allora poi cos'altro possiamo vedere potremmo poi fare le recipe anche di queste questo qua non so di cosa fa proviamo a farlo e vediamo vediamo come si fa ah beh si 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 era il campo in pratica proviamo a fare tutte le armi nella prossima invece facciamo questa si si che poi vi faccio vedere questa qualche cosa non è hai finito di craftare dai si fammi fare le recipe dai così oh in realtà queste qua facciamo le recipe no non ci serve una eh invece si che ci serve dai facciamole e vaffanculo quella ormai fatta fa niente facciamo due e facciamo tre ok piazziamo dentro una due e tre così draconic next start next start e next start fatto? fatto ce la possiamo prendere vediamo yes questa è la craftata questa è la craftata mancano solo i pieducci e e e e i piedi fatti perfetto ora bam 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 e bam si sta caricando un po' alla volta e abbiamo la nostra draconica ora questa qua mi sa che invece si poteva regolare come si regola contro le f contro il v no forse facendo no o non si può regolare forse non si può regolare vabbè comunque corre velocissimo si muove velocissimo è una cosa impressionante sta armatura ma non mi piace troppo veloce è fighissima ma è troppo veloce ma vaffanculo va me l'ha portata via il coso allora draconica una due tre e quattro va via il culo due tre e quattro ok e anche questo è fatto ci mancano ci mancano le armi quindi vabbè la spada è semplice no ok questo lo craftiamo è start e mi serve anche l'altro che era ok e poi mi prendo anche questa un attimo ok quindi dicevamo una bella spada così questa la mettiamo in mezzo e facciamo la recipe la buttiamo qua dentro e ci creiamo la nostra bella spada sword craft next vuoi craftarla perché non la crafti scusa boh tanto vabbè facciamo così va e ce la prendiamo e vada via il culo questa qua vedete la differenza questa qua fa 20 e questa qua invece fa 40 giusto il doppio dell'attacco ok è la spada forse più potente del gioco quindi prendiamo queste due belle schifezzuole girati ok e le buttiamo giù questa qua invece la teniamo e basta vi ho visto vi ho fatto vedere l'arma più potente del gioco l'armatura più potente del gioco della draconica la picca più potente del gioco ve la faccio vedere nella prossima puntata oppure ve la faccio vedere adesso potrei anche farvela vedere adesso allora si dai facciamola adesso e vada via il culo come si fa allora questa qua vedete serve una picca una spada e una draconic slow quindi dobbiamo fare 1 2 3 4 e 3 di questi quindi 4 start e poi mi servono 3 di draconic di questi qua dove sono qua start ok poi dobbiamo fare un piccone della we serve allora una spada start un piccone cioè una no un piccone e cos'era ah è la pala giusto una pala e un piccone ok poi dobbiamo fare il piccone così ah no sta ancora craftando la roba e a voglia ok ha finito quindi adesso non dobbiamo fare altro che craftare questi quindi dicevamo quindi 1 2 no usate la spada e 3 ok e poi craftare questa qua qualche arma ha preso piccone ok eccola qua ragazzuoli quest'arma fa paura allora innanzitutto fa 60 d'attacco quindi è realmente questa l'arma più potente del gioco ok si carica con 40 milioni però non fa solo danno cioè adesso vi faccio vedere che cosa combina sta cazzo di arma allora attacco away allora si può programmare vedete sights 5 per 5 7 per 7 9 per 9 cosa significa guardate allora 1 per 1 un buco ok 3 per 3 5 per 5 7 per 7 9 per 9 ci siamo resi conto di quello che può combinare questo coso fa buchi e con un colpo guardate ci rendiamo conto della roba che non è sto coso eh è figo oltre a fare attacchi a oe non mi ricordo più come si ah dig dep non mi ricordo che cos'è ah la profondità dig dep è la profondità tipo se noi mettiamo dig dep per a quanto arriva 8 9 ok mettiamo sights 1 per 1 quindi shift destro la sights control destro il dip qui va giù di 1 se io metto dip 2 no va sempre giù di 1 no allora non so cos'è il dip dep la velocità di scavata forse può darsi poi non mi ricordo come si forse con l'alt ma non mi ricordo l'attacco a oe come lo come lo si modifica forse non si può modificare beh comunque ragazzi state attenti a usarlo a sta cosa cioè seriamente i mobili one shotate però vedete come scava cioè giusto per farvi capire questo accetta qualsiasi cosa è come essere in creative con sta cosa distruggete i macchinari quindi occhio cioè se io metto size 9x9 ragazzi guardate cioè non so se vi rendete conto ma mi sta segando un albero in un attimo ecco c'è occhio davvero a quello che fate cioè guardate che roba creative cioè creative è lo stato puro questo ragazzi c'è non c'è più un albero lagga ovviamente perché lagga però è così ok ok allora basta cos'altro posso farvi vedere nient'altro di questa roba qua nient'altro non mi ricordo neanche che puntata siamo devo andare a guardare comunque questa è un'arma fighissima attenzione sempre a usarla io la metto giù perché finisce che faccio danni già lo so quindi la prendo e la piazzo lì che sta bene lì dov'è e tanto in realtà non ci serve abbiamo questa qua che fa già i suoi danni come si deve basta quindi direi che ah in realtà potrei fare anche l'arco dai si facciamo anche l'arco intanto questa roba la buttiamo via e tanto non ci serve e l'arco 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 semplicemente si fa questo che noi abbiamo già quindi no questo andiamo e quindi ce lo riprendiamo e molto semplicemente si fa un altro awen start un altro draconic e così start e si fa l'arco nulla di di così complicato ok l'arco ce l'abbiamo lo mettiamo qua appena finito di craftare questo possiamo creare anche l'arco l'arco perché è figo perché ci fa sparare le frecce in diverso modo anche questo qua vedete sharp shot explosive shot rapid fire all'esplosivi dovremmo avere arrow lt forse no non so scrivo explosive ci vogliono delle frecce particolari che però non so quali sono sinceramente dicevamo proviamo a prendere delle frecce normali ok guardate come tira queste frecce ok questo è poi c'è l'explosive che però non va perché non ho le frecce giuste il rapid fire guardate che roba e non è che non è che non è preciso eh guardate che roba cioè lo sharp è molto più facile perché comunque si ha no ci fa questo tipo di discorso ma il rapid fire è qualcosa di di straordinario puoi crivellare praticamente tutti ok ho segato tutte le frecce oh finite e me le prendo tutte ok e anche l'arco è fatto basta 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 direi quindi che per questa puntata ah nella prossima puntata sempre dalla draconic così finiamo il discorso dalla draconic senza fare reattore perché salta server potenziamo al massimo del tier questo cosa qua e lo portiamo a una palla gigantesca viene fuori ok quindi direi che per oggi è tutto grazie a tutti ciao ciao